Io devo dire solo grazie al preside e alla scuola che dal primo giorno che sono stato qua a parlare di Gianluca hanno voluto che io oggi presenziassi in questa inaugurazione e ne sono molto molto felice. Quello che ha fatto Crotone, io l'ho già detto prima, Crotone è la seconda città mia nel cuore che è quello che mi ha dato sinceramente e che mi ha dimostrato una sensibilità, un qualcosa da non credere. In merito a mio figlio già sapete qualcosa purtroppo di quello che è successo. Oggi mio figlio compiva 45 anni di età e andiamo avanti così ogni anno sempre cercando di fare un qualcosa di molto più bello. Elaborare il lutto non è facile, lo dobbiamo dire, però avere anche iniziative come queste quantomeno permettono di tenere sempre nei ricordi alta l'attenzione su quella che è la legalità e sulle vittime che ci sono state. Esatto, perché non solo Gianluca, tanti ragazzi, tanti bambini purtroppo sono vittime di queste disgrazie, chiamiamole così, non lo so come dire, però io sono contentissimo perché Gianluca con la nautica, con gli aerei era una cosa che piaceva moltissimo, l'aveva nel cuore. Io ringrazio anche le frecce tricolore della roba che hanno fatto anche Reggio Calabria. Ora Crotone, ripeto, per me Crotone è la seconda città nel mio cuore. Quello che mi ha dato Crotone, lo posso dichiarare, non mi ha dato Reggio Calabria. E suo figlio è nei nostri cuori. La ringrazio, vi ringrazio tutti, io sono sempre a vostra disposizione di quello che io posso. Non ho altro da dire che dire grazie, 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 ma col cuore, davvero. Crotone nel mio cuore. Poi i ragazzi che sono qua si passano qua tutti.